Idee innovative ed ecosostenibili per trasformare le nostre città in luoghi più efficienti e vivibili è l'obiettivo di Urbact, Programma Europeo di Sviluppo Urbano Integrato. Il punto forte è senz'altro la possibilità di condividere e riproporre lo stesso modello che ha funzionato bene in un comune anche in altre città europee, scambiando così esperienze e buone pratiche e creando un meccanismo di impulso sostenibile per le città che aderiscono all'iniziativa. Allora Simone, come funziona poi concretamente, come si può partecipare a questi bandi? Urbact è un bando a cui partecipano principalmente i comuni, quindi autorità locali, in alcuni casi anche università possono essere partner di progetti, ma principalmente sono i comuni a poter usufruire di questo metodo di scambio anche con altre realtà europee, che ha una particolarità rispetto ad altri programmi cofinanziati dall'Unione Europea, ovvero il fatto di dover necessariamente unire all'azione di scambio internazionale un'azione di coinvolgimento degli attori locali sul territorio attraverso la convocazione di gruppi di azione locale, ovvero di Urbat Local Group, come li chiamiamo in gergo, che mettano assieme tutti gli attori riguardati dal tema al centro del network Urbat a cui si partecipa. Nel caso, ad esempio, di chi si occupa di rigenerazione urbana, l'esempio di Sandona di Piava, una città che sta facendo molto bene in questo network, sono stati messi assieme tutti i gruppi giovanili che intervenivano nella rigenerazione di spazi di Sandona e assieme a loro si sta co-creando un piano d'azione locale che sarà poi implementato alla fine del progetto, si spera, anche grazie all'utilizzo di fondi sia nazionali che europei, perché poi Urbat ha la particolarità di stradare un po' le città, di educare le città al modo di utilizzare al meglio dei fondi europei con progetti di qualità e soprattutto partecipati, quindi coelaborati con i cittadini, con i residenti dei quartieri in cui si interviene. Tutto questo però sarà deciso assieme ai cittadini, non sarà più l'amministrazione che comunica alle persone noi di questo spazio vogliamo fare questo, questo e questo, ma invece si co-decide assieme cosa ne si vuole fare e si mettono assieme poi quegli attori che diventeranno con ogni probabilità quelli che quello spazio non animeranno e lo gestiranno e lo porteranno avanti nei prossimi anni.